Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parliamo di dolore lombare cronico, nello specifico di stenosi lombare e per farlo abbiamo invitato qui in studio da noi il dottore Emiliano Passacantilli. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Lei è neurochirurgo, quindi inizierei parlando, dando una definizione di stenosi lombare e da lì andiamo avanti e sottolineiamo qualche punto importante. Certo, la stenosi lombare è una patologia molto frequente, è la prima causa per cui le persone sopra i 65 anni vengono operate alla colonna vertebrale, quindi parliamo di una patologia molto frequente che si associa a quei disturbi che danno dolore lombare cronico e soprattutto dolore alle gambe, quindi agli arti inferiori. Manderei la prima immagine per far vedere in maniera chiara di cosa parliamo. Stenosi significa restringimento. Solo guardare questa immagine fa venire un pochino di claustrofobia. Parliamo di un restringimento patologico del canale spinale che provoca dei sintomi che sono invalidanti, che è colpito da questa malattia, soprattutto le persone sopra i 65 anni di età. Quindi è una patologia che colpisce soprattutto l'anziano. È una patologia fortemente invalidante perché i suoi sintomi via via con il tempo impediscono proprio alla persona di camminare, quindi di avere una vita di relazione corretta. Ma ha una evoluzione la stenosi lombare, quindi inizia magari con un piccolo dolore per poi aumentare o si presenta proprio invalidante fin da subito? No. La malattia classicamente ha un'evoluzione che può essere anche lunga. È una malattia dell'invecchiamento. Quindi è collegata... È collegata all'invecchiamento, è collegata alle degenerazioni che avvengono nella colonna vertebrale anche in maniera fisiologica o parafisiologica durante l'invecchiamento. È una malattia lentamente progressiva. Inizia con un... spesso con dolore lombare, dolore lombare che si ripresenta, poi piano piano nel corso dei mesi questo dolore va alle gambe ed assume quello che è il sintomo caratteristico di questa patologia che si chiama claudicazio neurogena. È un termine un po' forse difficile da capire per gli ascoltatori, ma in realtà è una cosa molto semplice che i pazienti quando vengono in ambulatorio riferiscono in maniera estremamente precisa. Il paziente inizia a camminare dopo un po', all'inizio dopo 4-500 metri e poi sempre per distanze più brevi inizia ad avvertire dolore alle gambe e quindi si deve fermare. Quando si ferma il dolore passa e questo sintomo diventa sempre più frequente, i metri per cui si riesce a camminare diventano sempre più, diciamo, sempre meno. Questo non è un esordio acuto, come diceva lei, è un esordio, è una patologia lentamente progressiva. Cosa succede a queste persone quindi? Piano piano si adattano a questo sintomo e questa è una cosa molto negativa, soprattutto per l'anziano e per il grande anziano, perché le persone si chiudono sempre più in se stesse, capiscono che se rimangono sedute o rimangono a letto non hanno sintomi, se invece escono vanno al cinema, vanno al bar, vanno a ballare con gli amici, i sintomi diventano sempre più invalidanti e quindi si chiudono in se stesse e questa è la cosa più pericolosa di questa malattia. Certamente, ma come sintomi abbiamo parlato di diciamo più semplicemente male alla schiena e male alle gambe, ma dal punto di vista visivo ha dei sintomi che si può identificare? Possiamo rimettere la diapositiva precedente, quella dove c'era ancora quella precedente e qui c'è la classica immagine del paziente con una stenosi lombare. Questo è un bellissimo disegno fatto da Frank Nett, un illustratore americano, che con questo schizzo mette in evidenza la postura del paziente. È una postura in cifosi noi diciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la schiena si piega in avanti, il paziente sta bene quando è piegato in avanti, porta il bastone come vedete nelle immagini e non riesce più a stare dritto. Fa fatica a camminare dritto, soprattutto fa fatica a camminare in discesa dove il busto deve essere esteso. Questo perché? Perché questo piegamento in avanti, l'immagine che noi avevamo del vecchiettino col bastone eccetera, aiuta il canale ad aprirsi naturalmente e quindi il paziente quando si piega in avanti ha meno dolore, le gambe fanno meno male. Ovviamente camminare piegati piegati in avanti è una cosa molto faticosa perché si mettono in tensione i muscoli flessori ed estensioni della colonna vertebrale in maniera anomala e questo stesso provoca dolore. Quindi il concetto, l'idea poi è sempre la stessa, il paziente cammina sempre meno e si muove sempre meno. Certo, quindi si può dire che gradualmente il paziente si chiude a riccio. Esattamente. In maniera graduale. In maniera graduale, in maniera anche molto graduale. Quindi il paziente piano piano nemmeno se ne accorge ma non riesce più a fare quello che faceva prima. Quando questi sintomi poi vanno avanti, ripeto lentamente, subentrano anche i deficit neurologici. Cosa significa? Significa che le gambe non riescono più a muoversi bene, non c'è più la forza nei piedi, la forza nei polpacci, la forza nelle cosce. Perché? Perché i nervi, le radici nervose che partono, che originano da questo canale spinale sempre più stretto, non funzionano più bene, non funzionano più bene in maniera critica. Quindi subentra proprio il calo della forza alle gambe. Chiaro. Ma quando si dice che colpisce persone in età adulta e più che altro in età anziana, colpisce indistintamente? Come si può evitare? Si può evitare? Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere due forme. C'è una forma classica, degenerativa, che colpisce le persone, uomini e donne, dopo 65 anni di età. Esistono dei fattori predisponenti, quindi lavori pesanti, sollevamento di pesi, ma esistono anche fattori legati alla familiarità. Quindi avere familiari affetti da questa patologia può genericamente predisporre. Esiste poi una forma congenita, devo dire non così rara, in cui il paziente nasce con una colonna che è congenitamente più stretta. Si chiama sindrome del peduncolo corto. Questo durante l'età giovanile non crea nessun problema, perché la colonna non ha nessun fenomeno degenerativo artrosico, ma già intorno ai 40 anni in questi casi, quando cominciano a subentrare fenomeni artrosici, ripeto, parafisiologici, quindi è normale che questo avvenga, questo spazio che già è nato come uno spazio stretto diventa criticamente stretto. E quindi in questi pazienti, intorno tra i 30 e i 50 anni di età, iniziano i sintomi. Iniziano i sintomi tra i 30 e i 50 anni? Nei pazienti con stenosi congenita, sì. Quindi è come se fosse una predisposizione? È esattamente una predisposizione. Quando la colonna inizia ad invecchiare, i sintomi cominciano. Quando diventa obbligatorio rivolgersi al medico? Quando inizia ad essere il momento di rivolgersi a qualcuno? Allora, il mal di schiena è un sintomo estremamente frequente. È la seconda causa negli Stati Uniti per cui ci si rivolge a un medico dopo il mal di testa. Tutti nella loro vita hanno sperimentato un mal di schiena. È altissima la percentuale di persone che hanno sperimentato una lombosciatalgia, quindi un dolore anche ad una gamba. Bisogna rivolgersi al medico quando, e oramai ci sono delle linee guide precise, il dolore dura da più di tre settimane ed è un dolore che non recede spontaneamente. Quando sono passate almeno tre settimane è obbligatorio fare degli accertamenti diagnostici. Quando ci sono questi sintomi, quindi un mal di schiena che non passa con il riposo, quando c'è un dolore alle gambe che non passa con il riposo ma che è persistente, soprattutto quando c'è questo sintomo di cui abbiamo parlato, cioè il dolore che insorge quando il paziente cammina e che passa al riposo, bisogna fare degli accertamenti. Gli accertamenti quali sono? La risonanza magnetica. Oggi è un esame forse anche di cui si abusa, ma in questo caso è un accertamento fondamentale perché ci permette di... possiamo vedere la terza diapositiva dove si vede la risonanza. Ecco, questa è una risonanza magnetica, una sezione assiale, dove si vede chiaramente che il canale spinale è più ristretto del normale. Nella immagine in basso a destra si vede anche la presenza di una cisti sinoviale, che è una cisti, una classica alterazione che fa parte del fenomeno artrosico e che restringe ulteriormente il diametro del canale dove passano le strutture nervose. Quindi la risonanza. Poi la radiografia. La radiografia della colonna vertebrale, soprattutto una radiografia in flesso-estensione, quindi con il paziente tutto chinato in avanti e chinato indietro, è un esame estremamente importante perché ci permette di capire se a fianco alla stenosi c'è una instabilità vertebrale. È una cosa frequente questa, abbastanza frequente. Cosa significa instabilità? Significa che le vertebre tra loro si muovono in maniera anomala, si muovono troppo. Le articolazioni delle vertebre, quindi i dischi, le faccette articolari, non sono più in grado di tenere unite in maniera corretta e di far muovere in maniera corretta queste vertebre tra di loro. Quindi la colonna vertebrale diventa instabile e questo provoca dei problemi, tra cui la claudicazione orogena e favorisce la formazione della stenosi. Quindi risonanza da un lato, RX dall'altro, sono gli esami fondamentali. L'altro esame è l'elettromiografia. Ecco, torniamo a parlare di elettromiografia tra pochissimo e di stenosi lombare. Riprenderemo a breve il discorso, ma adesso andiamo qualche minuto in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Eccoci qui di nuovo con il dottore Emiliano Passacantilli. Stavamo parlando di stenosi lombare e stavamo dando un po' quelle che sono le soluzioni quando ci si trova in una situazione così disagiante. Le soluzioni sono molte. Mi viene da dire anche troppe soluzioni vengono proposte. Mi lasci passare questo termine. Parliamo di patologie estremamente frequenti. Parliamo di patologie soprattutto nei mal di schiena benigni in cui spesso basta il riposo e qualche antinfiammatorio per arrivare a guarigione. Quindi i pazienti arrivano in ambulatorio con ogni tipo di soluzione possibile, dal rimedio della nonna a quello che ha fatto il vicino di casa, il mio amico non si è mai operato, è guarito con non so cosa. In realtà esistono molti modi per trattare questa malattia. La terapia conservativa è sempre il primo approccio e questo lo dico da chirurgo e ci tengo a dirlo. Non tutti i pazienti che arrivano nei nostri ambulatori di neurochirurgia vengono operati. Vengono operati la ristretta minoranza di pazienti. L'approccio conservativo consiste sostanzialmente nella terapia medica, quindi l'utilizzo di antinfiammatori specifici, la terapia fisica, quindi la fisioterapia, l'osteopatia, sono trattamenti validi. Quando si va avanti nel trattamento e quindi si fanno terapie più aggressive verso il paziente. Quando il dolore non recede, quando i sintomi non passano, è inutile insistere in metodiche che poi non danno risultato, ma si va avanti cercando la terapia più adatta per il paziente. Esistono tecniche di terapia del dolore per la stenosi lombare, quindi infiltrazioni, tecniche epidurali in cui si mettono del cortisone, degli steroidi all'interno del canale spinale, fino ad arrivare alla chirurgia. Bisogna dire che quando i sintomi del paziente sono sintomi severi, quando c'è un disturbo della forza delle gambe, quando non si può camminare per più di due, trecento metri, quattrocento metri, beh bisogna ricorrere alla chirurgia. Chirurgia che oggi è una chirurgia mini-invasiva. Quindi la chirurgia mini-invasiva può essere un sollievo per sapere che non è così pesante, neanche il post-operatorio. Assolutamente no. La chirurgia che abbiamo sviluppato nel corso degli anni è una chirurgia adatta a persone spesso con problemi fisici intercorrenti. Abbiamo detto, stiamo parlando di una popolazione soprattutto di anziani, quindi sono persone che nella maggioranza dei casi hanno problemi cardiologici, hanno problemi di diabete, sono affetti da obesità. Quindi le tecniche che sono state sviluppate negli anni sono tecniche idonee a trattare, non dico tutti i pazienti, ma la stragrande maggioranza dei pazienti. Quindi tecniche con incisione cutanea di due centimetri, due centimetri e mezzo, utilizzo del microscopio operatorio, utilizzo del microtravano, attenta diagnosi, sia clinica che radiologica, che ci consente non di operare come si faceva un tempo su tutta la colonna con tagli enormi, piccole incisioni chirurgiche e operare i punti dove la stenos è più severa, importante per dare il massimo beneficio al paziente con il minimo impegno dal punto di vista chirurgico. Tutti i nostri pazienti la mattina dopo sono in piedi, due giorni dopo sono a casa. Assolutamente sì. Il giorno dopo il paziente è in piedi. La filosofia che c'è oggi dietro il trattamento di questa patologia è la mobilizzazione precoce. Mattina dopo in piedi. L'altra domanda che mi fanno i pazienti sempre, ma devo fare riabilitazione, devo sottopormi a lunghe sedute di riabilitazione? Questa chirurgia non è come la chirurgia dell'anca e del ginocchio, che richiede una fisioterapia direi obbligatoria appena la non riuscita dell'intervento. La fisioterapia in questi casi vuol dire semplicemente alzarsi con un busto a stoffa e stecche, camminare. Il primo mese è un mese di tranquillità. Il paziente dopo una settimana già esce da casa. Dopodiché si fa una fisioterapia, spesso una fisioterapia posturale, quindi abbastanza blanda. Le tecniche ovviamente sono molte. Adesso abbiamo riassunto con tecniche mini invasive, ma le tecniche per trattare le stenosi sono molte, perché le situazioni che ci si presentano davanti sono molte. Molto spesso utilizziamo una tecnica, ripeto, microchirurgica senza l'utilizzo di protesi, quindi soltanto una laminectomia. Laminectomia significa allargare lo spazio del canale vertebrale che prima abbiamo visto stretto. Allargare vuol dire togliere, togliere una parte di osso, togliere una parte di legamento, ma in maniera tale che questo non vada ad alterare la struttura della colonna. In altri casi utilizziamo delle protesi, soprattutto quando c'è una instabilità, ma anche quando utilizziamo queste protesi, quindi viti, parre, per ottenere l'artrodesi, quindi la fusione dell'osso, abbiamo a disposizione dei metodi e dei viti e diciamo del materiale protesico che può essere inserito in maniera minimamente invasiva, quindi sempre con incisioni di 2 centimetri, 3 centimetri. Ma ci sono delle età in cui è più consigliabile sottoporsi a queste tecniche di chirurgia mininvasiva o si può fare sempre? La domanda nello specifico è, c'è un'età per cui è giusto operarsi poi superati per esempio gli 80, gli 85 non è più consigliabile oppure si può sempre fare? Abbiamo operato persone fino alla soglia di 90 anni. Questa è un'ottima notizia. È una domanda molto interessante la sua e le risposte sono due. Quello che noi dobbiamo fare da neurochirurghi è cucire l'intervento sul paziente come fossimo dei sarti. Quindi noi dobbiamo partire non dall'intervento o dalla tecnica, dobbiamo partire dal paziente, dalla clinica, dalla sua condizione fisica generale e dall'età che ha. E quindi dobbiamo cercare di trovare la soluzione chirurgica che sia la più adeguata per quel paziente e dobbiamo cercare di ritagliare l'intervento, quindi cercare una soluzione meno invasiva, cercare una soluzione che può affiancare un intervento alla terapia del dolore, per dare un rilievo, un beneficio. Ripeto, abbiamo operato con queste tecniche pazienti fino alla soglia di 90 anni. Non è sempre possibile. La comorbidità, comorbidità significa le malattie che sono insieme a questa sono fondamentali e di fondamentale importanza. La decisione chirurgica nella stenosi lombare direi che è una parte fondamentale dell'intervento. La visita, lo studio del paziente, tutte le malattie che ci sono intorno, per decidere qual è il trattamento più idoneo. Per risponderle in maniera più definitiva direi che in alcuni casi è possibile fare una terapia chirurgica con una soluzione definitiva, in altri casi ci dobbiamo accontentare di una soluzione meno definitiva, con un risultato magari positivo ma meno brillante, poiché il paziente non può sottoporsi a un vero e proprio intervento. Chiaro, è stato veramente esaustivo. È davvero rassicurante sapere che ci sono degli specialisti che si concentrano così tanto sul caso del paziente e in base al caso del paziente costruiscono poi la terapia e le tecniche chirurgiche da utilizzare. Lei lavora su Roma e Arezzo? Sì, io faccio parte di un gruppo di neurochirurghi, si chiama NSA, che ho fondato insieme a due colleghi oramai da oltre dieci anni. Lavoriamo a Roma e lavoriamo ad Arezzo. Ci concentriamo soprattutto sulle patologie della colonna vertebrale ma effettuiamo anche interventi di neurochirurgia. Il vantaggio di lavorare in un team dove oltre a quattro neurochirurghi senior ci sono anche giovani che lavorano con noi è proprio quello che le dicevo, discutere ogni caso, cercare per ogni paziente la soluzione più idonea e mettere insieme quello che sono le esperienze di tutti, quindi migliaia di casi operati. Migliaia di casi operati o trattati in generale o visti in ambulatoria. Quindi ci si può rivolgere a voi, a NSA, anche solo per avere un parere? Assolutamente sì. Ripeto, soprattutto nella patologia della colonna vertebrale e nel dolore, quello che va detto in maniera chiara al paziente. Noi siamo chirurghi, operiamo ed è il nostro mestiere ed è quello che ci piace fare. Ma la terapia spesso e nella maggior parte dei casi è conservativa. Possiamo dire in maniera molto semplice che su dieci persone che arrivano ai nostri ambulatori per dolore lombare cronico, stenosi o patologie degenerative della colonna, alla fine soltanto forse due vanno in sala operatoria. Ok, questa è un'informazione importante. E questo direi che è un approccio importante. L'approccio soprattutto per le patologie della colonna vertebrale deve essere un approccio medico generale in cui l'indicazione deve essere sempre ponderata. Molto più che per la patologia cranica, mi sento di dire. Assolutamente. Quindi, insomma, farei un appello a chi ci sta guardando. Non sottovalutare un semplice male alla schiena perché può diventare, anzi può essere già altro. Sì, assolutamente. Quindi nel momento in cui dura più di tre settimane, ci impedisce di percorrere lunghi tratti senza sentire male alle gambe. Diciamo che è il momento di rivolgersi a uno specialista. Certo, assolutamente. E se mi permette l'altra cosa che aggiungerei, la chirurgia non è la fine del mondo. La chirurgia è una soluzione e oggi le tecniche che abbiamo a disposizione ci forniscono veramente degli ottimi risultati con un tasso di complicanze bassissimo. Io ringrazio il dottore Emiliano Passacantili per essere stato qui con noi e per averci dedicato il suo tempo. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ringrazio tutti voi da casa che ci avete seguito fino a questo momento. Vi auguro buon proseguimento di serata e vi do appuntamento alla prossima puntata.